Oggi andremo a scoprire un cocktail irlandese, l'Irish Coffee, un hot drink, la quale invenzione venne attribuita al barman nell'aeroporto di Shannon, che per riscaldare i passeggeri arrivati da un viaggio transatlantico nella notte, inventò questa bevanda a base di caffè con l'aggiunta di whisky, naturalmente irlandese, panna e zucchero di carne. Adesso andiamo a vedere l'Irish Coffee si usa questo bicchiere temperato. Trattandosi di un hot drink, come prima cosa andiamo a riscaldare il bicchiere. Adesso andiamo a versare gli ingredienti. La prima cosa è lo zucchero di carne, o due cucchiai. Poi 4 cl di Irish Whisky. Adesso, per solo lo zucchero, utilizziamo un vaporizzatore. Adesso l'ingreniente principale, il caffè. E infine, la panna. Ed ecco voi, l'Irish Coffee. Alla prossima. Grazie.